Secondo voci ricorrenti, da un momento all'altro il Presidente della provincia Fabio Natta potrebbe annunciare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dello stesso Presidente, una prerogativa legittima da parte di Natta che però di fatto escluderebbe dalla possibilità di essere candidati e eretti tutti i sindaci cui comuni andranno al voto il prossimo 26 maggio. Si tratta di ben 30 comuni, fra cui realtà importanti come Sanremo, Ventimiglia, San Martolomeo al Mare e Cervo. Inoltre resterebbe fuori dalla partita anche lo stesso Natta, Sindaco di Cesio, in quanto anche il suo comune è chiamato alle urne il 26 maggio. La legge prevede infatti che possano essere candidati alla presidenza della provincia sindaci che abbiano ancora da compiere almeno 12 mesi di mandato. Essendo l'ultimo Consiglio Provinciale stato eletto il 10 maggio del 2017, la data per il nuovo voto potrà essere fissata a partire dal prossimo 11 maggio e il Consiglio resterà in carica per i due anni successivi, mentre il nuovo Presidente resterà in carica per i quattro anni successivi. Natta al momento della questione non ne parla ma nemmeno la smentisce.